L'archivio Roberto Marini, oltre il secolo breve, ha organizzato una tavola rotonda sul tema Pistoia 1990-2005, altri progetti di mondo e di città. Abbiamo pensato stavolta invece di ricordare quello che ormai è storia, cioè quindi la storia del centro stranieri di Piazza del Carmine, vicino a Via Amati, dove all'inizio degli anni 90 nacque questa esperienza quasi conseguente alla caduta del muro di Berlino, alla caduta di tutta una serie dei paesi dell'est e dell'arrivo dei migranti. Abbiamo deciso di ricordare quell'esperienza con una serie di persone che allora mostrano il tutto, a partire da Giuliano Capecchi, ma anche altri che poi ci lavorarono, Luca Sparnacci, poi Patrizia Menici, altre persone. Ancora abbiamo deciso di fare questa tavola rotonda per parlare di quello che era stato allora e quali sono le aspettative, dopo la caduta del muro di Berlino, per quelle che sono state. Oltre a questo parleremo anche di un'associazione che nacque nello stesso periodo e che operava anche al centro stranieri, che si chiamava l'associazione Il Grido, che faceva sia delle riviste che si organizzava iniziative sempre sulle questioni del cambiamento sociale. Visto che al centro stranieri si faceva molte cose, compreso anche scambi di cibi, ci sarà un buffet a base di zighini, che è un cibo tipico eritreo, che veniva allora fatto al centro stranieri. Seguirà letture di un libro di Barbara Veneforti che parla del centro stranieri di Piazza del Carmine, accompagnate dal musicista Luca Vivarelli, noto per il vinto il piano d'affini legato a Silvano Fedi. E poi sarà appunto un concerto di quello che era il gruppo principale del centro stranieri, che era il gruppo del Toscanto, Andrea Geri e altri ancora. Il maestro di danza Claudio Cesaroni, che rifarà fare le danze collettive, le gighe, che venivano fatte fare al centro stranieri. Grazie. Grazie. Grazie.